Ciao amici di Radio Uci, sono Giulia e nella rassegna di oggi ci occupiamo del cedolino delle pensioni, della questione bonus sociali e del vecchio nuovo bonus 200-350 euro per alcune categorie inizialmente escluse. Ma andiamo con ordine. A partire da oggi, 20 marzo, sono iniziate le pubblicazioni del cedolino delle pensioni di aprile 2023. Insomma, quelle che saranno in pagamento dal 1 aprile in poste e dal 3 aprile in banca. A mano a mano i cedolini saranno disponibili per tutti i pensionati dal sito IMSS e si potrà controllare il dettaglio di tutte le singole voci che dall'ordo portano al netto della nostra pensione. Come sempre il cedolino delle pensioni si trova sul sito IMSS a cui si può accedere tramite Speed e tra l'altro dal 16 marzo sulla stessa pagina è possibile anche scaricare la certificazione unica 2023. Tra qualche giorno realizzeremo un focus dedicato al cedolino di aprile per vedere insieme cosa controllare. Se non vuoi perderlo ti consiglio di iscriverti al canale. Passiamo adesso ai bonus sociali, cioè i rimborsi o gli sconti in bolletta. Come sappiamo infatti i bonus per la corrente elettrica e il gas sono stati rinforzati negli importi e sono stati estesi anche alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Però contrariamente a ciò che molti pensano i bonus spettano a chi ha un ISEE fino a 15.000 euro per tutto il 2023. Mentre sono gli importi rinforzati, così come altre misure contro il caro bollette per le famiglie e le aziende, ad essere state estese per i soli primi tre mesi di quest'anno. E quindi questi aiuti e importi maggiorati termineranno il prossimo 31 marzo. Quindi per chiarire la situazione i bonus sociali resteranno in vigore anche oltre il 31 marzo, ma sarebbero meno forti. Per questa ragione sembra sarà previsto per questa settimana un nuovo decreto in consiglio dei ministri che dovrebbe andare ad allungare ancora per qualche mese questi aiuti contro il caro bolletta per le famiglie e aziende. Non solo, secondo indiscrezioni, quindi asterisco al suo posto, per la seconda metà dell'anno dovrebbe arrivare un nuovo tipo di bonus contro il caro energia. Un bonus famiglie, che dovrebbe avere anche una parte di premio per le famiglie che risparmiano sui consumi energetici. Ma insomma, direi che è un po' presto per qualsiasi considerazione. Ad ogni modo, per tutti i dettagli sui bonus sociali, ti rimando ai singoli approfondimenti che abbiamo realizzato per ognuno di loro. Acqua, luce, gas e condizioni di salute. In ultimo, prima di salutarci, bonus 200-350 euro esteso. Si tratta, in buona sostanza, dello stesso bonus da 200 euro di luglio e quello da 150 euro di novembre per alcune categorie che inizialmente erano state escluse, in particolare per i lavoratori autonomi e i professionisti senza partita IVA, ma iscritti alle gestioni IMS. Se questi lavoratori avevano un reddito complessivo fino a 20.000 euro, allora riceveranno un bonus di 350 euro. Se invece il reddito nel 2021 era più alto di 20.000 euro, ma meno di 35.000 euro, spetterà il bonus da 200 euro. Poi ci sono anche altri requisiti da rispettare, come non essere titolari di pensione, oppure non aver ricevuto gli stessi bonus perché si apparteneva ad altre categorie. Le domande si possono presentare in autonomia dal sito IMS oppure tramite patronato e la scadenza per la presentazione è stata fissata al 30 aprile 2023. A brevissimo troverai sul Radio Uci un focus di approfondimento dettagliato sulla questione. Ma per ora io ti ringrazio per aver guardato fin qui, se la rassegna ti è stata utile lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!